In ogni tempo il Signore ha parlato al suo popolo attraverso i profeti per comunicare la salvezza, per comunicare la via che conduce ad una autentica realizzazione dell'Aleanza, nell'ascolto della parola, nella continua conversione, nel vivere con coerenza e con fedeltà quanto Yahweh ha ordinato. E allora è il dono dello Spirito, lo Spirito che guida, sostiene il cammino della Chiesa, a suscitare dentro agli uomini, dentro al loro cuore, dentro alla loro vita, continuamente un profondo desiderio, un desiderio di lui, ma altrettanto una realizzazione dentro alle relazioni quotidiane, ecco, di gesti di condivisione, di gesti di carità, di gesti di amore, che dicono come sia iscritto dentro al cuore di ciascuno di noi, di ogni uomo, indipendentemente dalla sua appartenenza a gruppi o a religioni, un profondo bisogno e altrettanto una realizzazione, ecco, di gesti di condivisione verso gli altri. E allora quel Vangelo sottolinea questo profondo bisogno, ecco, di accoglienza, di disponibilità verso tutti senza preclusione alcuna. Gesù risponde ai discepoli, ecco, non c'è nessuno che compia un miracolo nel mio nome e possa parlare male di me, chi non è contro di noi è per noi. E allora possiamo dire che i gesti che sono posti in essere, ecco, dagli uomini sono sempre un segno, questi gesti d'amore sono un gesto prezioso. Il discepolo è chiamato allora a sapere valorizzare con il dono dello spirito quanto accade attorno a lui, quando accade nella vita, nella realtà, indipendentemente da chi ha posto in essere questi gesti di amore e di carità. Non c'è preclusione, è solamente un riconoscimento, ecco, dell'amore di Dio che opera attraverso tutti. E allora chiama i discepoli a un atteggiamento di coerenza e di fedeltà. Chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare. Tutto ciò che costituisce un impedimento ad una piena realizzazione, ecco, della propria vita, tutto ciò che costituisce un impedimento alla fedeltà della propria vocazione, ecco, deve essere estirpato, deve essere tolto. Siamo continuamente chiamati ad una conversione, ad un cercare di eliminare per quanto è in nostro potere tutto ciò che è di ostacolo ad una piena autentica testimonianza del Vangelo. La Chiesa è nel mondo sacramento di unità e di salvezza per tutti i popoli indistintamente. E questo credo che voglia sottolineare come il dono dello spirito che parla in ogni uomo costituisce e costruisce la comunità ecclesiale che deve riconoscere, deve accogliere nell'ambito della vita quotidiana, ecco, i segni davvero providenziali dello spirito, indipendentemente da tanti fattori che spesso diventano per noi a volte un pregiudizio e una preclusione. E' la libertà dello spirito, allora, di quello spirito che ha parlato attraverso i profeti, di quello spirito che continuamente anima, vivifica la comunità ecclesiale, ecco, a fare davvero della comunità cristiana luce e sale per il mondo. Proprio perché sappiamo riconoscere in tutti e in ciascuno quello spicchio, quella scheggia di cielo che è posta dal creatore, indipendentemente da noi, dentro al cuore.